benvenuti benvenuti a questa puntata di stampa evangelo venerdì 7 aprile 2017 ci svegliamo con il mondo sull'orlo di una guerra è una puntata particolare che facciamo sotto l'onda anche motiva degli eventi che si sono verificati questa notte per chi non fosse informato dalle 2.45 del mattino sono piovuti sul territorio siriano 59 missili tomahawk spediti dal mar mediterraneo dalle portaeree statunitense del mar mediterraneo saluto alessandra bertozzi andrea dolcini jacopo pioli cristina zaccanti carmen benevento giovanni mazzotta giovanna arminio ovviamente la notizia è di particolare rilevanza saluto paul freeman che sottolinea il peso degli eventi saluto il coordinatore nazionale popola famiglia nicola di matteo barbara putignani giulio di santo allora cos'è successo 59 missili spediti sul territorio siriano 59 missili tomahawk spediti dalle portaeree statunitense nel nostro mar mediterraneo spediti in siria per colpire le basi dell'aviazione siriana da cui sarebbero partiti eh i caccia che hanno causato nella regione di idlib si sospetta un attacco chimico le scene che abbiamo visto dei bambini casati 11 bambini morti per i gas nervini supposte scene perché anche su questo non abbiamo ad oggi ancora certezze quello che è certo è che stanotte eh anzi nel mattino diciamo italiano sono arrivati questi missili sulle basi siriane basi dell'aviazione quindi sono state colpite eh le basi da cui sono partite le i caccia di Assad ehm è bene che noi abbiamo chiaro lo scacchiere medio orientale intanto perché tutto nasce nel mare mediterraneo cioè nel mare in cui si bagna l'intera penisola italiana quindi cerchiamo sempre di avere molto chiaro quello che accade questa è anche una rubrica in cui facciamo eh informazione e qui diamo le informazioni di base per regolarsi avere poi delle opinioni eh attorno a ciò che avviene in questo momento ehm Jacopo Pioli per esempio dice quello che è successo stanotte mi conferma è quello che pensavo che la storia delle armi chimiche fosse una fake news queste sono le varie valutazioni che ci possono essere vi posso dire che qualche minuto fa proprio pochi minuti fa è intervenuto Vladimir Putin che come sapete nello scacchiere medio orientale è alleato di Assad cioè della Siria che è stata colpita dai missili di Donald Trump eh e ha affermato che si tratta di un grave attacco a uno stato sovrano chi pensava che Trump e Putin andassero d'amore e d'accordo diciamo rispetto a questo scacchiere che è lo scacchiere di casa nostra lo ricordo quello del mar mediterraneo ehm modifica il quadro che avevamo in testa l'altro ieri ricordiamo lo abbiamo scritto in prima pagina sulla croce Trump si è liberato del suo stratega Steve Bannon che sembrava lo stratega più vicino alle posizioni di Putin oggi è arrivata la risposta militare Trump dice una risposta una tantum cioè non è un escalation militare della presenza statunitense nello scacchiere mediterraneo resta il fatto che la reazione di Putin quella che posso registrarvi è arrivata proprio ufficialmente dal Cremlino pochi minuti fa è una reazione eh come dire molto dura alla scelta militare presa da ehm da Trump una scelta analoga stava per essere compiuta da Barack Obama nel 2013 ve lo ricorderete forse vi ricordate anche che dal 2001 questo tipo di attacchi militari possono essere scatenati dal Presidente degli Stati Uniti senza passare dal congresso fino al 2001 l'attacco militare il Presidente doveva farlo passare dall'approvazione del congresso degli Stati Uniti dopo il 2001 la risposta militare può essere decisa direttamente dal Presidente nel 2013 ehm Barack Obama era in una condizione molto simile c'era stato già un attacco con armi chimiche su alcuni quartieri di Damasco Bobbama voleva bombardare nella stessa identica maniera dal mar Mediterraneo la Siria all'ultimo momento si fermò invece Trump ha deciso quattro anni dopo nel 2017 di adottare questi poteri e con questi poteri andare a colpire effettivamente la Siria e lo ripeto sono piovuti 59 missili Tomahawk lanciati da portaeree americane distanza nel Mediterraneo piovuti su un obiettivo mirato l'obiettivo mirato è la sede ehm dell'aviazione militare di Damasco la base dei caccia partiti per fare il bombardamento di Idlib che secondo informazioni occidentali è stato un bombardamento compiuto con armi chimiche e le scene che abbiamo visto dei bambini uccisi e feriti ad Idlib ehm sono state diciamo così la causa dell'attacco di ehm di Trump sul territorio siriano compiuto in questa maniera queste pure le notizie che definirei di breaking news perché la la reazione di Putin è esattamente di sei minuti fa e quindi ve l'ho data appena arrivata dal Cremlino noi però partiamo come sempre dal Vangelo oggi venerdì di passione l'ultimo venerdì di quaresima prima della settimana santa evidentemente la concentrazione e la preghiera che tra l'altro anche simbolicamente come popolo della famiglia assumeremo in settimana santa non ci saranno le trasmissioni di popolo della famiglia tv non ci sarà stampa e Vangelo non usciremo con la croce saremo concentrati solo nella preghiera e nell'azione diciamo così anche di liberazione dai peccati che precede eh la Pasqua di resurrezione ehm la buona notizia di oggi è nel Vangelo di Giovanni capitolo 10 versetti dal 31 al 42 in quel tempo i giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo Gesù rispose loro vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del padre mio per quale di esse mi volete lapidare gli rispose i giudei non ti lapidiamo per un'opera buona ma per la bestemmia perché tu che sei uomo ti fai dio rispose loro Gesù non è forse scritto nella vostra legge io ho detto voi siete dei ora se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di dio e la scrittura non può essere annullata a colui che il padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite tu bestemmi perché ho detto sono figlio di dio se non compio le opere del padre mio non credetemi ma se le compio anche se non volete credere a me credete almeno alle opere perché sappiate conosciate che il padre lei in me e io nel padre cercavano allora di prenderlo di nuovo ma egli sfuggì dalle loro mani ritornò quindi al di là del giornale nel luogo dove prima giovanni battezzava e qui si fermò molti andarono da lui e dicevano giovanni non ha fatto alcun segno ma tutto quello che giovanni ha detto di costui era vero e in quel luogo molti credettero a lui questa è la parola del signore di oggi è una parola del signore che racconta l'avvio della sofferenza della settimana santa della passione morte e finalmente resurrezione di cristo il clima di fortissima tensione con gesù che dice ma credete almeno alle opere vedete la forza della dialettica di cristo avete visto davanti a voi quello che sono stato in grado di fare perché sono il figlio di dio credete se non a me credete alle opere ma quando l'uomo è cieco non vede neanche la verità più palese e questo è l'elemento che deve interrogare ciascuno di noi la nostra cecità se io tolgo questi occhiali e provo a guardare cosa c'è in fondo a questo mio panorama non vedo nulla non vedo nulla perché lo strumento fondamentale per l'incontro con la vista diciamo così è un la lente che corregga la mia cecità e questo è esattamente ciò che avviene nell'incontro con cristo la visione sfocata viene corretta dall'incontro con qualcosa di determinante che rende nitido che rende nitido ciò che abbiamo davanti ai nostri occhi saluto melania simoni lo ringrazio per i complimenti sugli occhi saluto cristina zaccanti gb orsini chiede una risposta a filippo savarese non c'è nulla più da rispondere marco scicchitano se non che lo abbraccio come fratello e spero che prima o poi su questa terrazza che la terrazza dove è nato il comitato difendiamo i nostri figli stiamo trasmettendo esattamente da quella terrazza dove lui è venuto molte volte conoscendo mia moglie conoscendo mia figlia è venuto affettuosamente a salutare a chiedere a cercare come dire consiglio indirizzo un giorno o l'altro presto quando vuole lui quando vuole chiunque abbia ragioni di astio nei miei confronti questa casa è sempre aperta le mie braccia sono aperte non c'è astio nei confronti di nessuno forse questi giorni in cui queste ore in cui si parla di venti di guerra hanno la forza di istillare almeno nel mio petto nella mia anima una volontà di pace con tutti questo è veramente quello che provo perché quando penso al bombardamento ai bambini morti anche ai soldati siriani che muoiono oggi uccisi dalle bombe di trump quando penso a un mondo sull'orlo della sull'orlo della guerra la volontà è quella di essere in pace con tutti anche con marco demizi che ho visto comparire marco demizi chiede perché mi hai bannato marco demizi è venuto tutti i giorni sulle nostre dirette a voler dichiaratamente l'ha scritto lui stesso trollare a trollare nel gergo è cercare di far saltare le discussioni ora posso consentire tutto e questa bacheca è come vedete c'è anche un tal zuccarini che adesso sta insultando questa bacheca aperta all'insulto alla alla come dire violenza da parte di tutti nei miei confronti se invece la finalità è dichiaratamente quella di trollare cioè di mandare in vacca le discussioni lo spazio non c'è più se uno vuole discutere amichevolmente anche da posizioni diverse anche ripeto con l'insulto nei miei confronti personalmente si può fare se uno si dichiara troll e marco tu ti sei dichiarato troll cioè la tua finalità è non ho nulla da fare dalla mattina alla sera quindi al mattino fino a sera tardi perché ieri abbiamo verificato una giornata intera sono qui a cercare di disturbare allora questo elemento non viene consentito evidentemente saluto andrea sergio francesco rosa e l'onora degli esposti emanuella pongiluppi saluto appunto cristiano zuccarini come vedi è uno che si mette la faccia in maniera una maschera per non farsi riconoscere viene qui e insulta sistematicamente ma almeno non fa il trollaggio quotidiano dalle 8 di mattina alle 11 di sera perché insomma internet consente di mettersi il passamontagna andare a rompere scadere gli altri ma deve esserci un minimo di un minimo di limite melania simoni parla di situazione atroce e straziante e parla anche della ragione di rimaneggiare le foto degli eccidi signori qui siamo dentro una battaglia di informazione noi dobbiamo capirlo questo questa dinamica la dinamica che provoca come dire l'attacco di assad la possibile ma non probabile situazione di utilizzo di gas chimici di gas nervini sulla popolazione di idlib le immagini dei bambini morti l'attacco di oggi di trump la posizione di putin che appena arrivata di risposta a trump sono tutti elementi di battaglia di informazione dove sia la verità cioè se veramente assad ha usato i gas chimici oppure se è vera la versione di assad di aver colpito un deposito di gas chimici in mano ai ribelli io non credo a nessuna delle due versioni francamente lo dico con grande franchezza adesso siamo alla guerra dell'informazione la possibilità di comprendere ciò che accade è nella capacità di leggere le informazioni che arrivano la bomba politica che è interessante è cercare di indagare la ragione dell'azione di trump che probabilmente risiede anche in dinamiche di politica interna americana questo momento trump sembrava un po' all'angolo oggi sulla croce raccontiamo che non è riuscito neanche avere la conferma sul giudice costituzionale ha avuto solo 55 voti non i 60 necessari quindi probabilmente probabilmente c'è la condizione di una necessità di spostare l'attenzione degli americani sul quadrante della politica estera questo tipo di dinamica dobbiamo saperla leggere perché tutto deriva dalla lettura della verità nelle dinamiche allora la verità della dinamica è questa l'asse trump putin si è rotto oggi putin è molto duro oggi nei confronti di trump per via del 59 missili tomahawk appena spediti sul territorio siriano sicuramente è un'aggressione importante non credo francamente che in trump voglia produrre un escalation militare americana nel mediterraneo credo sia davvero un'operazione una tantum questa è la definizione che è stata data dalla casa bianca allo stesso tempo dobbiamo essere molto preoccupati perché il quadrante come avete capito che è il quadrante di casa nostra casa nostra qui di mezzo c'è la turchia c'è la nato allora noi dobbiamo cercare di comprendere una serie di dinamiche dice jacopo violi sarà un caso che trump ieri ha incontrato il premier cinese xi è certo non è casuale perché un altro quadrante importante pericolosissimo è quello cinese nord coreano come sapete lì rong anche lì è stata rivolta l'attenzione degli strateghi militari americani che vedono un escalation pericolosa nella dotazione nucleare da parte della dittatura nord coreana tutto questo regala uno scenario da mondo sull'orlo di una guerra come dice la pongiluppi saluto al nostro coordinamento terrorale pdf tv stanno giocando a risico a casa nostra appunto e noi però il risico dobbiamo saperlo leggere non dobbiamo farci come dire colpire solo dalle immagini che molto spesso vengono strumentalizzate utilizzate per far scatenare in noi quella reazione che poi rende legittimo il bombardamento sul territorio siriano al stesso tempo non dobbiamo demonizzare un trump che probabilmente con una prova di forza segnala al mondo che l'america c'è è un segnale importante secondo me per certi versi il fatto che trump bombardi e obama non l'abbia fatto segnala anche una diversa modalità di atteggiamento rispetto alla novità fondamentale del 2001 il 2001 con l'attacco dell'11 settembre consegna di fatto nelle mani del presidente americano cioè della singola persona senza dover passare dal congresso la possibilità di attacchi come questo trump dice al mondo io mi assumo la responsabilità di compiere questo tipo di attacchi quando il meccanismo lo richiede come dice bene danilo leonardi la guerra vive di propaganda di propaganda guido pianeselli dice mario no se ne stesse a casa sua con tutti i boys lo scenario ripeto non ha in questo momento le condizioni per farci esprimere un giudizio definitivo lo scenario è che di mezzo ci sono molte persone sofferenti andrea soffer cioè emiliano fumaneri suggerisce di leggere gli stregoni della notizia di marcello foa per vedere chi organizzò lo show di colin powell all'onu nel 2003 vi ricordate anche allora le armi di distruzione di massa in mano a saddam hussein uno spin doctor sotto contratto dell'amministrazione negli stati uniti quindi questa sottolineatura del milano fumaneri magari sarebbe utile caro emiliano che tu potessi scrivere qualcosa oggi per la croce proprio a partire da questo libro gli stregoni della notizia questi meccanismi sono importanti da studiare da comprendere certamente il quadrante è assolutamente da pericolo per tutti noi anche per gli italiani e come dice fabrizio pessa ci vanno sempre di mezzo gli innocenti giuseppe brienza intanto ci ricorda che oggi c'è il forum sociale del forum del popolo la famiglia a roma in via salvatore quasimodo 113 alle ore 20 e 30 anna russo ricorda che la siria è uno degli stati canalia si oppone al dominio del pensiero unico non riesco a simpatizzare per assad io questo lo dico con grande chiarezza quando ero parlamentare uno dei primi interventi che ho fatto anzi forse proprio il primo intervento che ho fatto da deputato è stato sulla questione siriana e sulla violenza di cui è capace assad un dittatore e noi dobbiamo uscire dalla logica bene i dittatori cioè bene che da fichi bene saddam hussein io ho sempre timore della legittimazione occidentale dell'attività dittatoriale perché l'attività dittatoriale è veramente pesante per le popolazioni che la subiscono allo stesso tempo mi rendo conto che la soluzione militare come dire da imposizione americana della democrazia è una soluzione fallimentare evidentemente ormai fallimentare 11 giorni fa come dice felice riccardi gli americani bombardarono una scuola a mosul con 200 civili morti tra cui 80 bambini queste sono ovviamente le questioni terribili che riguardano la guerra noi dobbiamo come popolo famiglia essere attenti ovviamente da cattolici siamo contro la guerra è evidente lo siamo con nettezza allo stesso tempo se hitler invadesse il mio paese prenderei il fucile e andrei a combattere con grande chiarezza lo affermo quindi esistono delle condizioni per cui non si può niente far altro che combattere la dittatura è da noi lo sappiamo bene pensiamo a quella che ci impongono gli stessi poteri che fanno la guerra esattamente la sottolineatura è facevo guido cioè la lettura dei fatti dell'informazione che ovviamente molto spesso è tele guidata anche da presunte democrazie che democrazia da questo punto di vista non sono quindi sicuramente il nostro atteggiamento è anti imperialista è anti guerra fondaio allo stesso tempo chiedo una lettura attenta delle dinamiche in corso senza ideologizzare e santificare i dittatori che sempre dittatori rimangono saluto giovanni fiori saluto luigi cazzola che ricorda che con i ribelli c'è l'isis saluto donata porcu saluto alex zino saluto bartolomeo notarangelo fabrizio pesta dice che preghiamo per la pace nei nostri cuori tra le persone nel mondo mi pare un'ottima riflessione melania simoni dice noi abbiamo una dittatura diffusa la tirannite c'è ugualmente è vero ma stare sotto un dittatore è peggio cioè stare sotto assad è peggio fidatevi cioè è meglio poter fare la battaglia democratica per esempio fa il popolo della famiglia per cercare di cambiare le cose cosa che sotto un regime dittatoriale non potremmo fare questo dobbiamo sempre tenerlo presente la differenza esiste saluto anna russo andrea non riesce a vedere i commenti in diretta quando avete dei problemi vi consiglio di fare spegnere riaccendere di solito ripartono tutte le funzionalità in questa maniera saluto rossella paone saluto melania simoni ora andiamo anche una parentesi che riguarda il popolo della famiglia perché perché ieri sono usciti i primi sondaggi per le elezioni amministrative voi sapete che per legge quando si sta sotto elezioni nei 75 giorni precedenti le elezioni siamo ormai a questo livello perché l'11 giugno si vota in 1024 comuni di questo paese ebbene nei 75 giorni antecedenti tutti i sondaggi politici devono essere pubblicati obbligatoriamente su un'unica fonte per essere poi diffusi e questa unica fonte è la pagina sondaggi politici elettorali della presidenza del consiglio della presidenza del consiglio ora ieri è apparso il primo sondaggio sulle amministrative proprio sulla pagina della presidenza del consiglio dei ministri questa pagina prevedeva il sondaggio per il comune di crema che è un comune dove il popolo della famiglia si presenta le elezioni amministrative ebbene la bella notizia del giorno è che il sondaggio pubblicato della presidenza del consiglio dei ministri prevede per il popolo della famiglia il suo candidato sindaco luca grossi un incoraggiante 9 per cento dei consensi all'inizio della campagna elettorale è una cifra che io ritengo meravigliosa persino sovrastimata per certi versi ma un 9 per cento di partenza è estremamente incoraggiante e allora vi chiedo un mi piace e un condividi per far sapere a tutti quelli che seguono stampa vangelo che i dati sì come dice melania simoni che sono dati ufficiali e verificati della presidenza del consiglio dei ministri con condotto il sondaggio da ipsos cioè da pagnoncelli cioè da una delle principali case di sondaggio d'italia forse d'europa i margini di errore ovviamente ci sono la forchetta di solito è più 3 meno 3 in questo tipo di sondaggi comunque sia estremamente incoraggiante questo 9 per cento che ci viene assegnato a crema per il candidato luca grossi candidato sindaco del popolo della famiglia l'unico altro sondaggio che finora è uscito era su verona news per quanto riguarda il candidato sindaco di verona il nostro filippo grigolini lì addirittura il popolo della famiglia viene dato al 15,5 per cento ora senza volerci fare illusioni sarebbe una media pazzesca quella del 9 a crema il 15 e mezzo a verona non ci vogliamo illudere più di tanto ma sicuramente quello che possiamo dire è che rispetto all'esperienza del popolo della famiglia delle amministrative del 2016 quando eravamo appena nati e il brand diciamo così non era per niente noto attualmente il brand popolo della famiglia per tante battaglie che abbiamo fatta quella contro la pornografia quella sull'eutanasia quella sul dutore in affitto gli insulti che abbiamo subito televisivamente da jx fedez e tanti altri le iene anche nell'ultima puntata hanno attaccato personalmente il sottoscritto la tanta visibilità che ci è stata data mediaticamente indubbiamente possiamo dire che al di là di questi dati estremamente incoraggianti ripeto crema ufficiale sondaggio presidenza del consiglio ministri 9 per cento verona news filippo chicolini 15 5 per cento al di là di questo possiamo avere chiaro che il trend rispetto all'1,07 per cento che abbiamo preso alle amministrative del 2016 è di crescita e anche di crescita piuttosto netta dobbiamo essere sempre uniti irremovibili per la battaglia stiamo portando avanti anche con la preghiera dice roberta palmigiani saluto romana cordova saluto alex zino che dice penso al grande lavoro fatto in questi mesi non faccio fatica a pensare a percentuali del genere sono percentuali estremamente incoraggianti io lo dico per l'obiettivo del popolo della famiglia è superare il 2 per cento a queste elezioni amministrative dove ci siamo presentati questo è l'obiettivo nonostante il fango che spalano su di noi in continuazione come dice melania simoni ma noi vogliamo vincere l'obiettivo della nostra vittoria appunto 2,5 per cento alle amministrative 2017 per puntare dritti all'obiettivo della soglia di sbarramento del 3 per cento che è la soglia di sbarramento per accedere in parlamento questi sono gli obiettivi rispetto agli obiettivi diciamo così i primi passaggi dal punto di vista dei sondaggi sono molto incoraggianti facciamolo sapere facciamolo sapere a tutti un mi piace un condividi a questa diretta per far sapere queste notizie importanti intanto saluto luigi cazzola lilli cosso gerardo astore irene stagliano massimiliano esposito che dice piccoli passi per le grandi imprese facciamo la storia facciamo la storia è la frase che c'è scritta sulla tessera del pdf la prima cosa che vi chiedo a tutti coloro che vogliono sostenere il popolo della famiglia è tesserarsi al popolo della famiglia le modalità sono state pubblicate insieme allo statuto del movimento statuto nazionale su la croce due giorni fa sono reperibili anche online cordenons prese il 3,3 per cento in due mesi ricorda vladimiro campello esattamente risultato che abbiamo avuto mirco de carli sta facendo un lavoro straordinario con egliano sta facendo seguendo anche la vicenda di monza domani io sarò personalmente ad alessandria per sostenere il candidato sindaco ad alessandria abbiamo alberto cerutti candidato sindaco a borgo manero stiamo preparando le liste ad asti a genova a parma a riolo terme a a riccione a a comacchio a ischia stasera c'è riunione del circo pdf ravenna dove già abbiamo letto due consiglieri municipali stasera si va a torino per le altre liste mirco de carli sarà lì insomma ottimo il candidato a forlì dice andrea francesco c'è uno che lavora anche per tutti ad avola in crescita ci cercano tutti dice corrado salonia simona bartoli lo ripeto che ce lo chiede ci sono persi i sondaggi a quanto ci danno il primo sondaggio ufficiale della presidenza del consiglio ministri per la città di crema ci dà al 9 per cento risultato straordinario non illudiamoci è bellissimo speriamo di fare il 2 5 d'accordo mirco de carli va anche a parma civita nova marche dove ci presentiamo saluto barbara putignani saluto roberto bruno domani con me ad alessandria come ricorda giuseppe brienza c'è il grandissimo don damiano cavallaro ormai mi muovo solo con un sacerdote dal fianco essendo io come dire l'ultimo dei peccatori mi piace essere accompagnato da sacerdoti durante le iniziative del popolo della famiglia sono tanti sacerdoti coraggiosi che si stanno schierando sempre di più con il popolo della famiglia dovessimo davvero confermare risultati di questo genere magari veramente del 9 per cento vedremmo affollarsi credo attorno a noi gli interessi di molti giuseppe annicchino dice che internet non dà le notifiche nei miei video in diretta complotto e vabbè insomma ci siamo comunque in tanti saluto anna luciano bartolomeo notarangio il signore ci ha dato un grande dono questo dono è il pdf non sprechiamo questa grazia saluto anche giovanni pecora simona bartolo fa wow simona bartoli fa wow avendo sentito la notizia del sondaggio di crema sondaggio ufficiale lo ripeto pubblicato sul sito della presidenza del consiglio dei ministri che è tenuta in questo periodo a pubblicare tutti i sondaggi che escono riguardo alle forze politiche tutto questo fino a 30 giorni dal voto a 30 giorni dal voto non si possono più pubblicare sondaggi e quindi si va si naviga a vista a quel punto insomma posso testimoniare peraltro che proprio a crema dove il risultato pare essere così importante ci sono pressioni fortissime per far ritirare il nostro luca grossi persone pressioni che hanno colpito diciamo alcuni hanno preferito vendersi ecco chi si va a vendere si ricorda sempre particolare sotto stagione pasquale che i 30 denari valgono poco poi dopo è meglio seguire testimoniare la verità piuttosto che accettare i 30 denari hanno telefonato anche a me direttamente per chiedere il ritiro di luca grossi da importanti centri di potere partiti di questo paese io ho risposto nella mia maniera più sgarbata possibile diciamo così lo dico con grande chiarezza chi mi ha chiamato ha avuto risposte sgarbate minnarello dice il pdf entra in parlamento non lo forma più nessuno il problema è aiutare il pdf entrare in parlamento stanno facendo di tutto affinché questo non accada se dovesse accadere sarà davvero volontà di dio perché vorrà dire che colui che ci siamo portati alle nostre spalle come protezione sempre ha voluto eccolo qua anche oggi in diretta abbiamo una splendida pietà una deposizione dalla croce che ci protegge ha voluto che il miracolo si realizzasse quale sarebbe l'accusa per grossi non ci sono accuse vogliono che si ritiri per far spazio al candidato del centrodestra noi ostacoleremo secondo le indicazioni di importanti partiti che a livello nazionale stanno cercando di esercitare pressione su di me è ostacolo alla vittoria contro il sindaco del pd mentre invece noi condizioneremo pesantemente con il consenso che il pdf saprà raccogliere il secondo turno e dunque l'eventuale possibile alternativa alla sindaco uscente del pd ma lo condizioneremo con i nostri voti i nostri consensi con i risultati che avremo ottenuto e se davvero sarà il 9% sarà talmente determinante da essere diciamo così l'elemento cruciale del ballottaggio che si terrà ricordo il 25 giugno 2017 questa è la strategia complessiva del popolo la famiglia dichiarata da sempre noi vogliamo condizionare il governo delle comunità del paese secondo la piattaforma programmatica alternativa del popolo la famiglia chi vorrà assumere la nostra piattaforma programmatica integralmente avrà l'appoggio del popolo la famiglia se si rifiuta la nostra piattaforma noi siamo tranquillamente pronti a restare all'opposizione di tutti con i consensi che saremo in grado di raccogliere questo significa avere una posizione autonoma non essere singoli all'interno di strumenti partitici che come abbiamo visto non sono in nulla capaci di tutelare i nostri valori i nostri principi non negoziabili quindi chi mi telefona per chiedere il ritiro di questo di quel candidato di questo di quella lista come sa anche chi ha testimoniato ci sono stati ministri alle scorse elezioni che hanno provato a costruire le condizioni del nostro ritiro e ci sono testimoni che hanno visto come io rispondo ai ministri che provano a condizionare la strada del popolo la famiglia chiedete a nicola di matteo che tipo di risposte ottengono costoro quando provano a comprarmi e vi assicuro vi assicuro insomma che ci hanno provato in tutte le maniere e continuano a provarci in tutte le maniere ci sono alcuni del anche che sono stati pochi singoli e pochissimi rispetto a quelli che mi aspettavo come numeri che hanno voluto vendersi alle prime sirene che hanno cantato secondo me si pentiranno molto di aver fatto questa scelta Daniela Scavolini dice Dio ti benedica Dei a chi chiede ai candidati PDF di ritirarsi basta come sgarberia sono stato un po' più pesante Daniela perché i ministri e i potenti diciamo capiscono un altro tipo di linguaggi insomma ecco ecco chi si è venduto ha fatto un errore di calcolo enorme il futuro è nel popolo la famiglia il futuro è nel popolo la famiglia ringrazio Luigi Marini che dici Mario buongiorno complimenti per il lavoro che stai facendo vai avanti non ti stancare mai esattamente Marco Rapetti Arigoni dice le alleanze si fondano sul programma e non sulle poltrone e si basano sui rapporti di forza in politica il consenso che raccogli il consenso che raccogli serve come rapporto di forza cioè per imporre la tua piattaforma programmatica e poiché noi queste cose le abbiamo fatte solo per tutelare i nostri valori i principi e non vedere più una legislatura come quella che abbiamo alle spalle in cui i nostri valori i principi sono stati venduti dai cosiddetti parlamentari cattolici che hanno aperto il negozio sui principi non negoziabili se si sono venduti per 15 denari manco per 30 allora noi adesso ci autorappresentiamo con una modalità piuttosto netta piuttosto dura piuttosto diciamo caratterizzante un atteggiamento nuovo e tutti quelli che vengono a provare a comprarmi con soldi a comprarmi con posti a comprarmi con assessorati promessi capolisture posti in parlamento io ho già avuto tutto grazie a dio dalla vita ho già fatto il parlamentare ho già fatto tutto il cursus onorum tradizionale all'interno di un partito tradizionale e se me ne sono distaccato è perché volevo battermi solo per i valori e per cambiare radicalmente la storia di questo paese perché aiutasse a cambiare la storia d'europa e del mondo ho ancora quel sogno del bambino che dice voglio cambiare il mondo voglio cambiare il mondo ecco ancora quel sogno là c'è la motivazione per cui tanti anni fa quando ero bambino a 13 anni cominciai una strada nella politica perché ho sempre pensato la politica potesse aiutare a cambiare il mondo l'ho fatto in un partito tradizionale importante di massa come era la democrazia cristiana da bambino l'ho fatto nei partiti che ne sono derivati partito popolare eccetera nella fase successiva mi sono convinto nel 2001 che esistesse la possibilità per tramite inter ricostruire meccanismi nuovi infatti fece una lista si chiama la democrazia diretta 16 anni dopo pare proprio essere stata profetica quella lista si presentò nel 2001 2003 quella lista confluì nella storia del partito democratico di cui sono stato dirigente nazionale fino a diventare parlamentare ho visto gli strumenti della politica tradizionale non potevano difendere i principi fondamentali per l'uomo che ritengo in questo momento cruciali dal punto di vista dell'ordinamento giuridico per difendere quei principi fondamentali mi sono distaccato dalla politica del momento di massimo successo e ho ritenuto che fosse necessario fare un percorso prima culturale scrivendo un libro e girando il paese comunicando alcune idee quel libro la voglio la mamma e molti di voi magari l'hanno letto e poi dare seguito a questa iniziativa con un'iniziativa politica che si chiama popolo della famiglia figuriamoci se oggi vengono a tentare di comprarmi con un posto da parlamentare se io gli dico ah vabbè allora ho fatto tutto questo per fare il gioco del loca e tornare a quello che ero anni fa sarebbe semplicemente sciocco quindi chi usa queste argomentazioni usa argomentazioni sbagliate e lo dico a tutti nel nel popolo della famiglia è inutile provare a convincermi e provare a convincerci che la strada giusta sia vendersi agli altri sarebbe ovviamente una follia no chi sta nel popolo della famiglia ci sta per fare un percorso alternativo alla costruzione di questa triste condizione di servire la vecchia politica la vecchia politica è in realtà vecchia per definizione incapace di risolvere i nostri problemi noi possiamo costruire invece un'alternativa reale fermo restando e dobbiamo essere adamantini coerenti duri quando serve perché il piatto di lenticchie come dice giuseppe annicchino non fa per noi chi si è preso e si è voluto prendere i piatti di lenticchie e si è allontanato dal popolo della famiglia ha fatto benissimo fatto benissimo ce li siamo persi prima che facessero danni ed è veramente una una benedizione del signore una benedizione del signore che non mi sono mai lamentato accompagnato alla porta quelli che avevano i loro dubbi la loro volontà di inquinare la bellezza del popolo della famiglia grazie a ninnarello che dice ci dai una grande carica io aspetto da ninnarello il suo scritto sulla libertà scolastica che è molto importante lo vogliamo pubblicare sulla croce bartolomano tarangio dice cattolici di che finiamo di chiamarli cattolici chiamarli con il loro vero nome menzognieri e ipocriti esatto i cattodem i cattolici in parlamento sì forse menzognieri e ipocriti è la definizione più semplice e più giusta guido pianeselli dice proprio così chi non condivide se ne vada d'altro noi abbiamo esplicitato guido sei testimone con me che la nostra linea in quattro assemblee nazionali molto partecipata è stata sempre uguale quindi chi si vuole distaccare da questa linea e vuole andare via tanti auguri insomma al nemico che fugge ponti d'oro dice marco rapetti arriconi esattamente così saluto a gerardo astore ci sarebbe un tradimento l'ennesimo gravissimo tradimento uno schiaffo all'onnipotente saluto susi esti che arriva in ritardo ma arriva sempre quindi un abbraccio a susi un saluto a bella lavanda dio è con noi perché ci crediamo soprattutto perché preghiamo perché ci facciamo proteggere le spalle amici guardate che bella questa deposizione con le mie spalle si vede è in questo venerdì di passione venerdì ultimo venerdì di quaresima prima della settimana santa è davvero importante a essere protetti diciamo così da immagini anche di dolore e sofferenza che ricordano che poi la nostra sofferenza è sempre niente rispetto a quella di coloro che danno la vita per noi saluto massimiano amato e ringrazio gianfranco per lo straordinario lavoro che sta facendo in terra di puglia una regione dove erano non ancora molto ben radicati gianfranco ha fatto un lavoro straordinario città per città teatro per teatro ha riempito tutti esauriti e contiamo anche di poterci presentare a lecce dunque per le prossime amministrative saluto felice riccardi speriamo che al sud non si verifichi il solito assalto alla diligenza di personaggi squalificati e corrotti saluto melania simoni buona giornata a tutti saluto daniela scavolini saluto vittoria polacci ecco alessandro cocco del popolo famiglia di trieste l'estremo l'estremo oriente del nostro del nostro popolo famiglia grazie davvero ci aspettiamo moltissimo al friuli venezia giulia alle prossime politiche nonché alle regionali per mettere in crisi e far cadere il regno della zarina debora serracchiani giuseppe brienza dice popolo famiglia uniti si vince ricordo iniziativa oggi forum sociale popolo famiglia a roma alle 20 e 30 via salvatore quasimodo 113 se volete domani mi trovate invece ad alessandria ennesimo weekend ennesimo fine settimana fuori da casa con mia moglie che sopporta poverina e sarò ad alessandria per il popolo famiglia che ad alessandria si presenta alle elezioni domani faremo la puntata saluto alessandra pondelli che dice un anno fa nasceva pdf novara saluto guido mastro buono saluto grande fedex saluto marian mari dicevo domani faremo la puntata prima che devo proprio partire per alessandria quindi faremo la puntata alle 8 e un quarto non alle 9 55 come solito facciamo il sabato alle 8 e un quarto perché poi devo partire per alessandria e altrimenti non faccio in tempo molto banalmente quindi appena il treno è lunga la via per alessandria saluto claudio iacono ciao mario forza che ce la facciamo a forza davvero visto i sondaggi che oggi ci danno al 9 per cento a crema al 15 5 per cento a verona insomma non esageriamo con le illusioni però è straordinario insomma saluto giacomo collotto dice grazie anche a povia certo io mi piacerebbe molto che giuseppe povia si candidasse per il popolo famiglia a firenze ho questa cosa in testa mi piacerebbe molto facesse il candidato del popolo famiglia a nella città di firenze alla camera dei deputati mi piacerebbe molto glielo chiederò anzi glielo chiedo tramite questa diretta facebook mi piacerebbe vederlo in parlamento se vuole da indipendente c'è un posto per lui a firenze mi piacerebbe davvero averlo saluto daniela scavolini che saluta silvia pardolesi che sa è mia moglie grazie davvero saluto alex zino giuseppe bienza ricorda l'apertura della croce oggi su trump e la siria un abbonamento per un'informazione libera anche se arrivano notizie diciamo nuove che sono quelle con cui abbiamo fatto la puntata di oggi stampa evangelo maria letizia quattrini scopre adesso il nostro sondaggio al 9 per cento che non è il nostro tra l'altro tra l'altro il sondaggio quello che ci crema e ha trovato il pdf al 9 per cento quindi l'ha realizzato ipsos di pagnoncelli l'ha pubblicato il sito della presidenza del consiglio dei ministri insomma possiamo persino crederci insomma possiamo persino crederci francesca marzo dice avrò modo di aggiornarvi sulla dottoressa de mari certo oggi c'è l'incontro a palazzo giustizia a torino con la de mari sulla sua causa diciamo così che la messa sul banco degli imputati uno scandalo assoluto ma davvero un aiuto con la preghiera per silvana saluto anche questo vazquez davila che ci saluta dal messico che ci saluta dal messico in un abbraccio anche agli amici messicani che evidentemente toccati dalla testimonianza di gianfranco amato che come sapete è stato lì protagonista per risolvere la vicenda della legge sul matrimonio omosessuale in messico forse si ricordano di questo ci vengono a salutare durante i diretti stampa e vangelo vi chiedo un mi piace un condividi abbiamo parlato di cose molto importanti oggi un mi mi piace un condividi a questa diretta saluto tonino madia dalla calabria uno dei luoghi dove siamo ancora un pochino deboli sarebbe bello per esempio fare la candidatura a catanzaro mi piacerebbe molto che la lista del pdf potesse presentarsi anche a catanzaro ci lavoriamo però se tonino madia ci vuole dare una mano può scrivere a nicola roma chiocciola otmail.com che è l'email di nicola di matteo per costruire le condizioni per una candidatura a catanzaro del popolo della famiglia un mi piace e un condividi a questa diretta lo ripeto perché abbiamo dato le notizie importanti in particolare quelle diciamo terribili sulla guerra ma anche quelle buone sui sondaggi del popolo della famiglia in vista delle prossime amministrative saluto anche giulio suardi francesca marsoli alex zino finori un abbraccio a tutti da questa splendida giornata primaverile di una città di roma che ci accoglie con un sole meraviglioso vediamo se riesco a farvi vedere la bellezza di questa giornata eccoci qua davvero straordinaria una gran bella giornata di sole è saluto sabino sabini del gruppo preghiera popolo la famiglia saluto angelo de salvatore una città alla volta un paese alla volta una strada alla volta e il popolo la famiglia conquisterà il cuore e la coscienza degli italiani saluto gioseppe brienza che sia il popolo la famiglia vuol dire anche dire sia la libertà un saluto a rosa e l'onora degli esposti un saluto a cinzia gioia avete visto roma nella sua bellezza assoluta diciamoci la verità una città straordinaria e avete visto anche il terrazzo del della nascita del family day questo terrazzo dove ci ritrovammo per la prima volta il 2 giugno e 18 giorni dopo ci ritrovammo a san giovanni per il primo family day del 2015 sono passati neanche due anni e la storia in qualche modo è cambiata ora continuiamo a farla cambiare facciamo la storia attraverso le nostre battaglie attraverso la nostra consapevolezza un mi piace e un condividi intanto ci sono grazie a simona lupi anche amici che sono interessati a candidarsi a tortoreto in provincia di teramo per le amministrative buona giornata a tutti un bacio alla bellissima roma dice vittoria polacci c'è daniela tascini c'è ninnarello c'è paolo ruotolo ci sono tanti amici che voglio salutare e darvi l'appuntamento con stampa evangelo per l'ultima puntata che poi faremo la settimana di fermo per la settimana santa saluta anche Filippo Savarese che ieri ha tanto decantato il tuo terrazzo giovanni pecora che è un provocatore vedi lo saluto certo l'ho detto prima il mio cuore assolutamente aperto e con simpatia perché alla fine io non riesco mai a portare rancore a nessuno a differenza di altri invece covano rancore giorno dopo giorno io invece proprio non non ce la faccio alla fine voglio bene a tutti insomma Stefano Sigali dice che inspiegabilmente ha i capelli a posto insomma a posto sembra sembra una parrucca un parrucchino come dicono alcuni Nicola Di Matteo fatemelo salutare il nostro coordinatore nazionale Nicola Di Matteo ti segnalo anche Simona Lupi che diceva di poter fare una lista a tortoreto quindi potete trovarvi magari per fare la lista di Tortoreto in provincia di Teramo Massimano Esposio dice su quel terrazzo sono nati anche i circoli voglio la mamma esattamente l'origine dei circoli voglio la mamma dei circoli la croce e poi arrivati fino al pdf è un terrazzo che ha ospitato un po di storia del cattolicesimo militante in questo paese esattamente domani ripeto ultima puntata non posso farla alle 9.55 perché devo partire per Alessandria dove alle 16 sarò con Don Damiano Cavallaro a sostenere il popolo della famiglia per le amministrative ad Alessandria quindi la facciamo alle 8.15 e 8.20 come al solito qui in diretta su Popolo della Famiglia TV Giuseppe Berenza richieda i fatti che qui sul nostro terrazzo è nato anche il comitato difendiamo i nostri figli Maria Chiara Matarazzo dice sì l'ultima è che hai la parrucca no sono sono capelli miei eh vedete non si tirano questo è il mio cuoio capelluto e si vede insomma capelli miei insomma non è non è una parrucca un abbraccio a Nicola di Matteo Danilo Lonardi dice bravo Mario facciamo del bene a tutti del male a nessuno ma sì ma non riesco mai a fare del male a nessuno questo è il mio il mio tallone d'Achille fosse un po' più cattivo o almeno cattivo come vengono descritto diciamo già sarebbe già sarebbe qualcosa l'amore vince il mondo dice Anna Russo saluto Guido Pianeselli che tra l'altro deve prepararsi perché le dimissioni all'ottavo municipio sono diventate effettive si potrebbe votare l'ottavo municipio di Roma nostro grande candidato all'ottavo municipio il bene vince sempre dice Corrado Salonia eh Simona Lupi dice rosicano perché Mario ha dei bellissimi capelli eh magari ehm vi saluto davvero un abbraccio a tutti anche a Cesare Fanfani ehm questa è l'ultima che mi dicono il parrucchino sì vabbè davvero sono tanti eh sono molto folti quindi in effetti magari può sembrare un parrucchino vi chiedo un mi piace un po' di un condividi a questa diretta saluto Emanuele Lobue che è appena arrivato nella diretta così come è arrivata anche Maria Beatrice Ungaro ricordo PDF al 9% nel primo sondaggio ufficializzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri un saluto anche a Maria Chiara Matarazzo 15,5% secondo invece il sondaggio di Verona News viva il popolo la famiglia come dice Marco Rapetti Arrigoni grazie Donata che vede il colore bellissimo degli occhi eh vabbè insomma l'occhio azzurro ce l'ho grazie davvero eh saluto Elena Taddei eh Luigi Cazzola che ha 74 anni come mio papà non mi far commuovere purtroppo morto a 73 morto proprio tra pochi giorni sarà l'anniversario della morte l'ultimo atto che fece il 23 aprile fu firmare la mia candidatura a sindaco di Roma per il popolo la famiglia e il 26 aprile poi è morto eh avrebbe fatto 74 anni il primo aprile scorso qualche giorno fa grazie a Luigi eh di aver ricondato mio papà in questi giorni eh molto presente nei miei pensieri eh ringrazio tutti voi ringrazio davvero eh con un abbraccio ognuno di voi speriamo di farlo anche a tavola il 9% dice Corrado Salonia sì speriamo davvero ecco Emanuele Obue da Putignano con Gianfranco Amato forza a creare il circo del popolo la famiglia in Puglia grazie davvero Emanuele grazie davvero a tutti anche a Paola Ganza che è appena arrivato anche a Dimitri Turrini anche a Caterina Pistininzi che dice viva il popolo la famiglia anche Fabrizio Pessa il papà del 1943 come mio papà e grazie a tutti davvero una buona giornata da Maria Rinolfi grazie a tutti i'ai